quando fai allenamenti di forza fai serie lente o serie veloci dammi 5 secondi e lo vediamo insieme questa forza ovviamente che tutti vorrebbero avere magari c'è chi ha il metodo vincente che riesce ad allenarsi per sviluppare più forza eccetera eccetera allora partiamo come sempre in queste dirette intanto grazie per essere qui collegato o collegata metti subito un like un'interazione e fai pure la tua domanda ti risponderemo subito dopo dico perché ti risponderemo perché sono io con i membri della sports science academy allora oggi la ricerca e la review di oggi parla di proprio di questo l'allenamento l'aumento di forza è allenabile ad alte o a basse velocità ed uscita su sports medicine nel 2017 sports medicine la rivista che vedete sempre qui a fianco a me rossa che è una rivista molto nota di review allora qual è il concetto importante che ci dobbiamo far portare anzi non dobbiamo portarci a casa intanto vediamo cosa ne pensa uno dei membri della sports science academy chi ha segnalato questa review che si chiama lorenzo modelli ciao a tutti ho scelto questa review perché mette a confronto l'allenamento con i sovraccarichi eseguito ad alta velocità con quello eseguito a bassa media velocità questa review dimostra che tra le due metodiche il guadagno in termini di potenza è fondamentalmente sovrapponibile quindi utilizzare un carico più leggero ad alta velocità consente ugualmente di allenare la potenza io mi occupo di allenamento di sprint l'allenamento con i sovraccarichi è molto importante per aumentare il valore di forza dell'allenamento tenendo conto di queste informazioni ho quindi la possibilità di allenare uno sprinter facendo aumentare la sua potenza ma senza esasperarne l'ipertrofia migliorandone così il rapporto peso-potenza ci siamo bloccati un attimo siamo in diretta allora grazie Lorenzo per questa segnalazione la ricerca è questa l'aumento di forza è allenabile ad alte e basse velocità quindi l'allenamento per la forza con diverse velocità veloce o lento consente un simile miglioramento anche con atleti di diversa esperienza ma qui viene il ma allora andando a leggere questa review che poi una meta analisi quindi deve andare a studiare individuare tanti studi e ci sono anche tante differenze se vi so che poi il trend più importante di cambiamento di miglioramento della della forza è quando si ha un aumento della velocità ed una intensità moderata che stabilita in un range tra il 60 e il 79 per cento dell'1rm quindi sembra che il miglioramento della forza anche in funzione ovviamente della potenza va verso questo range quindi un'alta velocità di esecuzione con un range tra il 60 e 79 però c'è sempre da dire che quando si va a prendere le review e anche gli studi scientifici noi ci posizioniamo sempre su una forchetta che è molto ampia ovvero abbiamo un'area dove c'è effettivamente un incremento che poi a livello statistico e significativo bene non si può allenare però un ragazzo una persona con questi parametri perché ovviamente questa è la media di una popolazione di riferimento il trend però ci dice potrebbe essere questa la migliore strada allora a quel punto bisogna individuare qual è la migliore velocità al carico ottimale quindi un allenamento di potenza in modo da poter utilizzare e ottenere i migliori risultati in funzione del miglioramento della forza e ovviamente anche della potenza in questo caso insomma la cosa non è così tanto semplice questa è la review che abbiamo visto su Sports Medicine grazie alla Sports Science Academy intanto continua a commentare o a mettere il like o a condividere noi ci sentiamo alla prossima a domani grazie